Come presentiamo tutte le partite, tutte le domeniche, sono tutte gare difficili. Più passa il tempo, più passano le giornate, più le gare diventano toste, le squadre migliorano domenica dopo domenica, come del resto miglioriamo pure noi. Saranno tutte gare toste, gare da faticare. Diciamo che vincere aiuta a vincere, aiuta pure ad allenarti con più consapevolezza e con più entusiasmo. Quindi credo che i ragazzi, a parte oggi, da sempre hanno messo in allenamento sempre qualcosa in più che poi ti vai a ritrovare la domenica. Questo credo sia il nostro credo dal primo giorno che abbiamo messo piede nel campo di allenamento. Non posso dire niente, anche oggi hanno dimostrato grande attenzione, grande voglia e grande concentrazione per la partita di domenica. Sì, ma come ho detto prima, più passano le giornate, più ovviamente il campionato va a delinearsi e più il campionato va a migliorare. Perché comunque le prime gare, le prime gare si sa, ancora c'è tanto da lavorare come c'è da noi, credo che ci sia pure delle altre squadre. Quindi poi ovviamente, sai, quando il campionato si inizia a delineare, vincere con chi sta davanti ovviamente è sempre doppiamente più bello, vuoi per la classifica e vuoi per il prestigio. Quindi non è questo, lo sappiamo bene. Infatti mai prendere gare sotto gamba, mai prendere gare con poca concentrazione, perché credo che fino adesso quello che ci sta permettendo, qualità a parte, di fare risultati è la concentrazione e la determinazione di questo gruppo.